Per gli amanti della buona tavola, i cultori del gusto, i semplici cittadini curiosi di conoscere i sapori della propria terra, l'Arzial, l'agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura laziale, ha curato un mese di marzo all'insegna del gusto rinomato dell'olio extravergine d'oliva. In collaborazione con Uliveti e Slow Food, l'agenzia ha organizzato una serie di eventi presso l'enoteca regionale Palazium di Via Frattina. Happy Hour dalle 18 alle 20 degustazioni libere e guidate con menù a tema. Sono alcuni degli appuntamenti fissati lungo il mese. Imperdibile la giornata del 23 marzo alla città del gusto dove ospiti del gambero rosso saranno offerti gli oli della regione. La promozione del cosiddetto oro giallo laziale continuerà anche nei mesi a seguire fino a giugno con cene all'enoteca Palazium curate da chef affermati. Lo spirito degli organizzatori è quello di coniugare la conoscenza della produzione dei marchi dell'extravergine con l'informazione per evitare le frodi riscontrate nel settore. Il mercato dell'olio extravergine del Lazio per ora offre buoni risultati anche perché negli anni è aumentata la qualità del prodotto. Quest'anno abbiamo una produzione un po' ridotta rispetto all'anno scorso per il caldo e la siccità che hanno insomma portato a una maturazione anticipata delle olive però hanno dall'altra parte hanno anche ridotto il verificarsi gli effetti patogeni che queste volte incidivano sulla qualità dell'olio quindi meno produzione ma maggiore qualità. In merito all'emendamento spinto dall'assessore all'agricoltura Angela Birindelli alla legge regionale sulla tracciabilità con cui si allarga la competenza della promozione dello sviluppo a più soggetti il presidente Manzocchi crede che il ruolo dell'Arsial non venga sminuito. Io credo che Arsial mantiene delle competenze tecniche importanti si è creata un po' troppa enfatizzazione intorno a questa legge non si tolgono competenze Arsial semmai non se ne assegnano di nuove però credo che Arsial sul tema della tracciabilità dei controlli è destinata per vocazione ad avere un ruolo centrale nel futuro quindi non sono minimamente preoccupato per questo. Non teme la competizione di altre agenzie anche dell'assessorato? Ma non la temo perché l'Arsial è un ente strumentale quindi non deve sovrapporsi all'assessorato ma deve essere di sostegno all'assessorato è un suo ente strumentale quindi sarebbe una diciamo una cosa del tutto incomprensibile che ci fosse concorrenza. Per Gambero Rosso la nota guida che offre le recensioni di ristoranti e prodotti di tutta Italia l'olio del Lazio merita pieno titolo di gareggiare con i più rinomati oli toscani e pugliesi per la sua delicatezza. Nel Lazio abbiamo un problema di Roma che non è un problema una grande opportunità che è un po' anche per la Lombardia così si tende a pensare a queste regioni partendo dai capoluoghi dalla capitale in questo caso e quindi il fatto che il comune di Roma sia il più grande comune agricolo d'Europa che la regione Lazio abbia oltre questo straordinario olio altri prodotti eccellenti è insomma è un po' poco evidente con questo spot che c'è sulla nostra capitale. Non è la cenerentola è un olio come ho detto eccellente è molto apprezzato come ho detto a livello internazionale per le sue caratteristiche di leggerezza e quindi con una politica regionale più attenta a supporto dell'olio dell'agroalimentare Laziale Romano e la cucina romana Laziale si può fare di più di meglio.